Innova Puglia non sarà cancellata dal verdetto sfavorevole del Consiglio di Stato. Lo chiarisce il vertice operativo tenuto in Regione Puglia dai legali dell'ente col presidente della società, uno dei bracci operativi storici della Regione a supporto dell'innovazione tecnologica e di consulenza alla spesa europea. Rileggendo le carte emerge che il Consiglio di Stato ha censurato in appello una situazione illegittima immersa nel giudizio di primo grado del Tarre nel 2009. Le irregolarità però nel frattempo sono state sanate grazie a due modifiche allo statuto che hanno allineato Innova Puglia alla normativa sulle società in house. Escluso quindi il rischio a zeramento e la restituzione di fondi europei, circa 300 milioni di euro negli ultimi anni, utilizzati tra l'altro per l'appalto sulla banda larga in Puglia e su un progetto di informatizzazione. La società regionale ha un bilancio di 15 milioni di euro di recente finito in attivo e le commesse le smista all'esterno attraverso bandi di gara pubblici. Questa è una società, un organismo pubblico che opera per la pubblica amministrazione, opera secondo regole di natura pubblicistica e lo continuerà a fare nei prossimi anni. Respinto pure il risarcimento danni della società privata Megatrend da 21 milioni di euro, una richiesta partita proprio nel 2009 per l'esclusione dell'azienda dalle commesse regionali. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che non ci fossero gli elementi per qualificare in termini di danno l'azione della regione e della società nei confronti di questa società. Quindi diciamo al momento questo è il dato e a questo ci atteniamo.